PEGI 18 Che posto l'è questo? Sono morto. Irael, guardami. Sono qui, figlio mio. Sono qui. Come impossibile. La morte ti è stata pregata. Ioret. Ioret. Staremo insieme, mio amato. Presto. Per sempre. Staremo insieme di nuovo. Molto presto. Cosa mi è successo? Una maledizione ci ha confinati qui insieme. E come possiamo spezzarla? Dobbiamo trovare colui che l'ha gettata su di noi. Avevo una famiglia, una moglie e un figlio. Li ho seppelliti insieme a tutti coloro che conoscevo. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti.